Inquinano, non servono al nostro fabbisogno energetico, servono solo ad arricchire tasche di lobby petrolifere molto vicino al nostro governo. Per questo il 17 aprile bisogna andare a votare sì per chiudere con la stagione delle trivellazioni, per chiudere con la stagione delle energie fossili e per investire invece sulle energie rinnovabili che danno speranza di futuro al nostro ecosistema e soprattutto creano più occupazione e più ricchezza per il nostro paese e per la nostra Sicilia, che ha bisogno di avere il suo mare pulito e salvaguardato e non invece molti buchi per coprire e riempire le tasche di lobby petrolifere e di grandi compagnie che fanno solo i loro interessi e non quelli dei cittadini.